Terra Madre, ventesima edizione, la Camera di Comercio è qui con un grandissimo stand che è qui alle mie spalle, vogliamo promuovere le nostre eccellenze, i nostri maestri del gusto che sono oltre 200, che abbiamo appena premiato e quindi tutta la grande tradizione enogastronomica ma anche agroalimentare del nostro territorio, della provincia di Torino con i grandi vini e i grandi cibi. Abbiamo 60 eventi, abbiamo anche dei buyer stranieri perché la Camera di Comercio vuol dire economia, vuol dire anche vendite, esportazioni, per noi è molto importante anche fare questi incontri B2B per le aziende, per la grande vetrina internazionale che rappresenta Terra Madre oggi e nei prossimi giorni. La Camera di Comercio supporta questo evento e facciamo con tantissime iniziative insieme alle associazioni delle varie categorie ma anche alle associazioni dei panificatori, di tutti quelli che sono i grandi artigiani, le grandi competenze del mondo del cibo e del vino.